Teneva il nastro tricolore all'ingresso del centro Alzheimer Margherita l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi, l'attuale primo cittadino di Colli al Metauro, oggi si dice preoccupato per il futuro della struttura inaugurata nell'aprile del 2014. Io seguo da diversi giorni con apprensione e preoccupazione questa situazione del centro Margherita, sono in contatto anche con alcuni utenti, diciamo così, alcuni familiari di persone che lo frequentavano e che lo vorrebbero continuare a frequentare e che sono molto preoccupati, anche perché quello dell'Alzheimer sappiamo benissimo che è una tematica assai delicata per chi la vive, anche nelle famiglie, ma anche purtroppo in enorme aumento con l'allungamento della vita è un fattore sempre più presente. Quindi questa preoccupazione parte proprio dal fatto che è un settore, intanto quello del sociale, che a me è sempre interessato e toccato tantissimo, fin da quando ero assessore tanti anni fa a Fano, è stata la mia prima esperienza. Poi per quel che riguarda il centro Margherita, ho proprio un'affezione particolare perché è un centro che ho voluto fortemente io, quando ero sindaco Fano, insieme alla fondazione Cassa di Risparmio, fu un accordo tra questi due enti, noi cedemmo il terreno gratuitamente, la fondazione lo realizzò e insieme lo abbiamo dato in gestione alla cooperativa Labirinto che gestiva già privatamente un centro di quel genere a Fano, ma non aveva più spazi, non aveva più modo di potersi espandere. Per Aguzzi è fondamentale che la regione istituisca un fondo straordinario perché senza un supporto economico la Labirinto non riaprirà il centro Margherita. Infatti a causa delle norme anti-covid la cooperativa dovrebbe assumere più personale, sanificare gli ambienti e rispettare le tante regole previste per il settore, costi che comporterebbero un aumento delle rette pagate dalle famiglie. Io capisco che sono difficoltà molto diffuse, forse non è neanche solo di questo centro, ma è una situazione molto generalizzata in tutta la regione, ma cercare di andare incontro a questo tipo di esigenze e di tematiche in questo momento di grande difficoltà sia assolutamente doveroso. E capisco anche che la regione come le Marche possa essere un po' in difficoltà in questo settore per il fatto che ad esempio, questa secondo me è una lacuna che va colmata, non hanno mai avuto una specifica delega ai servizi sociali, cioè nella regione Marche non c'è mai stato un assessore ai servizi sociali, è una delega inglobata all'interno di altre situazioni. Questo rischio di far passare in subordine queste tematiche che invece sono di prioritaria importanza. Quindi sarà una lacuna che assolutamente va colmata già dalla prossima legislatura, si vota tra poche settimane in regione, e un assessorato dedicato ai servizi sociali credo sia doveroso, utile, assolutamente necessario fin dai prossimi mesi.